Musica Approvata una risoluzione che impegna l'esecutivo regionale a prevedere la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiore criticità Dal 16 al 18 giugno Montelupo, Fiorentino, capitale della ceramica con il festival Ceramica La rappresentanza di circa 100 vincitori toscani del progetto Intercultura ricevuta dal presidente Antonio Mazzeo nell'aula consigliare dell'Assemblea Legislativa Il piano per la qualità dell'aria Al dibattito sull'informativa della giunta sul piano regionale per la qualità dell'aria e ambiente è seguito l'esame e il voto sulle proposte di risoluzione collegate Con 24 voti a favore di PD Italia, Viva e Movimento 5 Stelle, 9 contrari di Fratelli d'Italia e Lega l'ala di Palazzo del Pegas ha approvato l'atto del Partito Democratico primo firmatario Vincenzo Ceccarelli che impegna l'esecutivo regionale a prevedere la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiori criticità nonché ad attivarsi in ambito europeo affinché le necessarie direttive in materia ambientale siano sempre più corrispondenti alla puntuale analisi del quadro conoscitivo esistente e strutturate in modo da essere pienamente applicabili a livello territoriale portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto in materiale particolato fine, ovvero il PM10 ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiore al valore obiettivo mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto dei valori limite aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e di diffusione delle informazioni questi gli obiettivi generali che dovrà contenere il piano regionale per la qualità dell'aria e ambiente illustrati dall'assessore all'ambiente Monia Moni nell'informativa preliminare al Consiglio regionale tra le aree di maggiore criticità emergono quella della Piana Lucchese e Pistoiese del Comune di Firenze che sono state oggetto di sentenze della Corte di Giustizia Europea per superamento di PM10 e NO2 Moni ha ricordato le principali azioni messe in campo tra il 2020 e il 2023 per il miglioramento della qualità dell'aria la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente Lucia De Robertis ha sottolineato come al nuovo piano affidiamo un compito strategico del percorso della transizione ecologica che vede impegnata la nostra regione che deve andare oltre l'emergenza Si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'aria un nuovo piano dell'aria che deve come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella Piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero del proprio obiettivo la salute dei cittadini non in termini emergenziali ma di prevenzione di tutela della salute facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore è evidente che nel piano dell'aria deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste insomma passare da un chiudere la stalla dopo che poi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione e con i cittadini perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni ma si curi la qualità dell'area per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana il consigliere Scaramelli ha sostenuto la risoluzione abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'area in Toscana sia migliorata ci sia un trend positivo servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche dei contesti urbani più complessi due sono elementi di crescita nell'area di Lucca, nell'area di Firenze ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla regione Toscana un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la regione Toscana, Italia Viva e il Partito Democratico Per Irene Galletti le iniziative messe in campo sono servite ad approfondire la conoscenza del problema ma hanno bisogno di uno sforzo ancora maggiore L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta cinque anni fa i passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid quindi o le risorse non sono state bene impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza in ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano soprattutto nell'area fiorentina e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici il Movimento 5 Stelle con il super bonus che è stato criticato in tutti i modi possibili ma è stato uno dei più efficaci strumenti con cui siamo riusciti ad aiutare i privati e anche il settore pubblico nella riqualificazione che ci chiede l'Europa è stato affossato da questo governo e neanche ben voluto da quello precedente soprattutto dal PD il Movimento ha fatto degli altri l'ex ministro Costa ha investito molto ad esempio nella scorsa legislatura nel 2020 sul risanamento ambientale e soprattutto dell'aria se tutte queste risorse non sono servite è perché non è stata efficace l'azione della scorsa giunta e in questo momento evidentemente anche di questa Critico il consigliere Andrea Ulmi Diciamo che l'assessore ci ha dato qualche informativa ulteriore rispetto ai documenti che avevamo io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e 2015 la regione toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone diciamo che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative in realtà questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia una per la Piana Lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta cioè c'è scritto ben poco per cui al di là di quello che dice l'assessore che sembra vogliano fare qualcosa in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducono in fatti concreti perché ad oggi siamo sotto infrazione Leggendo l'informativa il quadro della situazione che viene data un po' parziale ha osservato il vice presidente della Commissione Ambiente Alessandro Capecchi che rileva un rapporto non felicissimo con il mondo delle autonomie Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo esattamente come quello del piano regionale di sviluppo esattamente come il piano dei rifiuti Si fa le cose all'incontrario in Toscana prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli prevedendo anche il diritto di rivalza ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze l'inquinamento in modo particolare dovuto come da centralina di Viale Gramsci all'inquinamento dai veicoli oppure la Piana, Lucca, Pisa, Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse in entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento premiati i giovani vincitori del progetto Intercultura giornata emozionante per i 34 giovani toscani che hanno vinto una borsa di studio Intercultura per trascorrere un periodo scolastico all'estero ad accoglierli nell'aula consigliare di Palazzo del Pegos è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo a premiare le ragazze e ragazzi il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli la difensora civica toscana Lucia Annivoli e il segretario generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino tanti volontari dell'associazione che hanno partecipato all'evento con i familiari delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori provenienti dalle province di Pisa, Grosseto e Siena e da Sansepolcro un centinaio complessivamente i giovani vincitori del concorso di Intercultura in Toscana e pronti a raggiungere le destinazioni in tutto il mondo dall'Irlanda al Canada, dall'Argentina agli Stati Uniti, dalla Thailandia al Giappone Entrare in quest'aula, l'aula del Consiglio e vederla così piena di ragazzi e ragazzi che avranno l'opportunità di sfidare il mondo di andarlo a conoscere, di aprire i propri orizzonti culturali di conoscere storie differenti di portare la bellezza della nostra regione nel mondo la Toscana è una terra ospitale, una terra aperta è una terra che in questi anni ha avuto la capacità di affacciarsi al mondo cambiando, cambiando anche per come cambia il tempo che viviamo questa sarà un'opportunità molto bella mi auguro che le ragazze e i ragazzi possano riportare qui tanto di quello che riusciranno ad apprendere ma possano portare anche i nostri usi, i nostri costumi, la bellezza, la storia, la grandezza della nostra terra nel mondo insomma un'esperienza bella e sono contento oggi di poter essere qui insieme a tutti loro in Consiglio regionale tanti giovani che grazie a una borsa di studi alla Fondazione Intercultura riescono a coronare un sogno quello di andare all'estero, di vivere un'esperienza straordinaria di crescere un anno, fare un percorso formativo studiare e poi tornare e crescere è una grande opportunità di relazioni con gli altri paesi di tutto il mondo quindi la Toscana ha ospitato questa iniziativa questa cerimonia molto importante perché i ragazzi sono il nostro futuro un patrimonio straordinario portano la nostra cultura all'estero e nel contempo torneranno formati le vogliamo salutare oggi prima che partano ovviamente hanno 16 anni quindi un'età bellissima, straordinaria molti di loro non hanno avuto coraggio di rischiare chi ha avuto coraggio di rischiare oggi va a giocarsi un pezzo importante della propria crescita personale per questo il Consiglio regionale è vicino a tutti loro e a tutte le loro famiglie a premiare studentesse e studenti anche la difensora civica Lucia Annibali è sempre bello e importante partecipare innanzitutto come istituzioni a tutti i momenti che coinvolgono i giovani che vengono promossi dai giovani che guardano anche al futuro e quindi lanciano dei progetti una loro partecipazione anche attiva alla loro vita ma insomma anche alla vita un po' così quotidiana della nostra società e del nostro paese e poi giovani e cultura mi sembra un binomio molto importante proprio per le risorse che possono rappresentare i giovani del nostro paese il segretario generale di intercultura Roberto Ruffina ha raccontato 70 anni di storia dell'associazione partendo dalla sfida dei volontari che vanno nelle scuole a selezionarli da 70 anni effettivamente è stata quella che ha inventato gli scambi scolastici internazionali in Italia ogni anno mandiamo all'estero più di 2000 ragazzi a vivere con una famiglia a frequentare una scuola per un intero anno scolastico sono ragazzi delle scuole secondarie che fanno questa esperienza senza perdere l'anno in Italia e acquisiscono un'incredibile apertura al mondo una conoscenza delle lingue una capacità di gestirsi di relazionarsi con gli altri che si era poi utile per tutta la vita noi siamo grati alla regione toscana che ha voluto dare ufficialità a questa cerimonia in cui premiamo i ragazzi che partiranno il prossimo estate A Montelupo Fiorentino torna ceramica Un viaggio nella produzione della ceramica di Montelupo Fiorentino tra storia, tradizione e contemporaneità torna dal 16 al 18 giugno in uno dei distretti più importanti d'Italia all'edizione 2023 del Festival Ceramica con le esposizioni, la mostra mercato i cantieri d'arte contemporanea laboratori e workshop, spettacoli e concerti non mancheranno laboratori per i più piccoli e visite guidate Montelupo Fiorentino nel prossimo weekend sarà la capitale toscana la capitale italiana della ceramica è bello sapere che si può ripartire questo è un motivo davvero di ripartenza dopo il difficile periodo della pandemia dopo le difficoltà che i tanti produttori hanno avuto e stanno avendo anche per il caro energia ceramica è arte, ceramica è cultura ceramica è il racconto di un territorio che lotta, che rialza la testa e che con le sue capacità con la sua manualità, con la sua artigianalità offre prodotti che ci invidiano in tutto il mondo e allora che siano tre giorni belli tre giorni di ripartenza tre giorni su cui costruire un futuro migliore per quel territorio la ceramica è ridiventata il nucleo vero fondamentale di questa manifestazione una tre giorni che richiamerà i ceramisti più importanti da tutta Italia e non solo, anche dall'estero un'occasione importante per rifare il focus su quanto sia radicata storicamente questa tradizione a Montelupo e nella nostra regione e come ancora oggi sia importante legata al tema del design, dell'arte il filo conduttore dell'edizione 2023 è la macchina del tempo la manifestazione vuole raccontare la ceramica non solo quella tradizionale ma soprattutto quella contemporanea ha affermato il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti che ha ricordato le tre ricorrenze importanti che si celebrano quest'anno è una manifestazione per noi molto importante quest'anno peraltro che ha delle ricorrenze importanti sono 50 anni che è stato scoperto il pozzo dei lavatoi quello da cui è partita la narrazione, la nostra storia da cui si è ridisegnata la storia della ceramica montelupina 40 anni dal primo nucleo del museo della ceramica di Montelupo a Palazzo Podestarile e 30 anni dalla prima manifestazione, la prima festa della ceramica quindi sono tre ricorrenze che ben si adattano anche al nome che abbiamo dato, al sottotitolo per così dire la manifestazione la macchina del tempo il festival che ha la firma della direzione artistica della fondazione Museo Montelupo torna nel suo format pre-pandemia Montelupo torna a festeggiare il suo festival della ceramica dopo due anni di stop dovuti ovviamente alla pandemia torniamo al format originale del festival della ceramica di Montelupo torniamo con molti artisti ospiti con una bella mostra a mercato dell'artigianato nazionale e internazionale con dei workshop e dei cantieri d'arte quindi anche con una componente esperienziale importante sulla ceramica contemporanea e con il tradizionale programma di spettacoli e laboratori per ragazzi il ricco programma oltre a mostre e installazioni nei luoghi espositivi e di produzione della città e negli spazi urbani prevede residenze artistiche e scambi internazionali tra cui i cantieri di Montelupo iniziativa che sarà presentata sabato 17 giugno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti